Ciao, oggi impariamo ad applicare dei fogli di cera sul telaio vergine. Seguitemi. Questo è il nostro telaio. Dopo aver zigrinato i nostri fili che in precedenza erano lisci, questo ci permette di dare un po' più di aderenza al foglio di cera. Questo è il nostro foglio di cera che verrà appoggiato sul nostro telaio. Ora adesso quello che vogliamo fare, attenzione che i fogli sono delicatissimi, ne abbiamo già rotto uno, due. Quello che dobbiamo fare è riuscire a riscaldare il nostro circuito in modo da far sciogliere il foglio di cera leggermente, non troppo, altrimenti passa attraverso, in modo da farlo appoggiare, sciogliere appunto dove aderisce la cera al filo di ferro, in modo da fissarlo. Una volta freddo. Ed eccolo qua. Questo appunto è il nostro telaio. Abbiamo appoggiato il foglio di cera. Adesso andremo con la batteria della macchina. Questi sono i nostri cavetti attaccati alla batteria. Mettiamo i cavetti appunto negativo e positivo, cerchiamo la nostra scintilla. Ecco, vedete? Questo ci fa capire che appunto c'è corrente. Ecco qua. La cera si è sciolta. Esattamente nei punti dove richiesto. E il nostro foglio ha praticamente inglobato il filo conduttore. Stacchiamo i cavetti e il nostro foglio è perfettamente incollato. Et voilà. Fatto.